Ma! Alcela parte, te lo dico male! Mamma mia, voglio che mi avete capito poco. Eh già. Io faccio un video. Un video? Siamo a quattro! Fanno altro, faccio il blu film! Per il mio principe azzurro, perché voglio donargli il tesoro prezioso della mia virginità. E mi contattano stilisti per farmi fare delle sfilate. Ti contattano gli stilisti? Puoi dire che fai schifo! Io so di essere bella, ne sono fortemente consapevole. Ah, forse perciosi vergine! Quindi, la faccia è bella, la colpa è straordinaria. Si vuoi stare in Napoli! È normale che mi vogliono sulle passerelle. Io sono una ragazza semplice, che al sushi preferisce di buttare un caseo. E la volta non hai capito uno cazzo! Anche se non ho capito una cosa, io non ho capito che tene più me che la mazza scassata e cenerentola. Anche io vorrei andare al ballo. Eh! Fammi capire dove tu ballo! C'ho una sala solo per te! Nel castello. Qua con questa casa si trasforma in carrozza. Ma non capisco! E ballare con il mio principe e vedere tutte quelle persone gelose che ci guardano. Eh! E dici non vuoi! Ha fatto così pure un lippopoto! Immaginare che siete voi! Sì! Perché voi siete brutti! Maligna! Pelle e ossa! Pelle e ossa! Ma come stai parlando quello? E sinceramente non me ne fanno che allo scoccare della mezzanotte me ne devo fuire! Ma ma c'è la mia strana da moto! E sapete perché? Perché già sa che quando sto curando tutto affannato c'è la paura che cucuzi mi rimane a fare! Secondo me c'è la paura che si stanno prendendo panina che la faccia a terra! Io perderò la scarpetta di cristallo sulle scale e il mio principe la troverà! E... Farà di tutto! Eh! Farà di tutto! Per rimettermela al piede! Per vivere per sempre felici e contenti! Io fui io! Tu fui! E il mio!